Nel corso sull'Antico Testamento imparate a conoscere la creazione e la caduta dell'uomo, le fondamenta della dotazione nel Tempio. Imparate cos'è un profeta. Prendete familiarità con termini come obbedienza, sacrificio, alleanza, sacerdozio di Aaron e sacerdozio di Melchizedek. La base della legge giudaico-cristiana, e in vero anche di quella dell'Islam, vi viene spiegata dettagliatamente. Così pure vi vengono spiegati i motivi per cui versiamo le decime e le offerte. Leggete le profezie riguardanti la venuta del Messia e la restaurazione del Vangelo. Vedete Elia che spiega il potere di suggellamento e ascoltate Malachia che profetizza che Elia sarebbe stato mandato con le chiavi dell'autorità di suggellare. Nel seminario, imparate a conoscere l'Antico Testamento. Ormai quasi del tutto abbandonato dal mondo cristiano, esso rimane per noi una testimonianza di Gesù Cristo. Testamento di Gesù Cristo.